Il Papa si è congratulato a lungo con i due vincitori del premio Ratzinger 2016 nel corso della cerimonia svoltasi nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Monsignorino Sbiffi è stato premiato per riconoscimento dei meriti di una vita intera dedicata agli studi teologici nella Chiesa e nel suo servizio. Il professor Ioannis Curempeles invece per aver cercato un connubio tra il pensiero di Ratzinger e la teologia ortodossa. Un'occasione di festa, quella odierna, che è arrivata al termine del Simposio Internazionale sul tema dell'escatologia, fondamentale, secondo Bergoglio, per riflettere sul senso della vita e della storia senza restare chiusi in una impostazione materialistica o mondana. Ma è stato anche l'ennesimo modo per dimostrare riconoscenza e affetto verso Benedetto XVI, che, ha detto Papa Francesco, continua ad accompagnarci con la sua preghiera. La profondità del pensiero di Giuseppe Ratzinger, solidamente fondato nella scrittura e nei padri, è sempre nutrito di fede e di preghiera. ci aiuta a rimanere aperti all'orizzonte dell'eternità, dando così senso anche alle nostre speranze e ai nostri impegni umani. Il suo è un pensiero e un magistero fecondo, che ha saputo concentrarsi sui riferimenti fondamentali della nostra vita cristiana, la persona di Gesù Cristo, la carità, la speranza, la fede. e tutta la Chiesa gliene sarà per sempre grata.